Presidente Sebastiani, dopo l'inatteso, K.O. interno contro il Taranto, è deluso e arrabbiato? Ma no, deluso sicuramente sì, è arrabbiato quello che basta, però purtroppo ci possono stare dei momenti durante una stagione e noi speriamo di averli superati con questa ultima brutta sconfitta e speriamo di ripartire già da domenica prossima. Cosa non le è piaciuto? Ma se ne va a vedere la partita, alla fine dopo 5-10 minuti potevamo fare subito il gol con Cuppone che purtroppo l'ha tirata fuori e dopodiché noi abbiamo cercato di giocare la nostra partita ma con una squadra che si è messa per 10-11 nella propria metà campo al primo errore abbiamo pagato come sta succedendo in queste ultime partite e poi nell'occasione del secondo gol sì, ci può essere anche qualche responsabilità dei difensori però devo dire che il loro giocatore ha messo una palla in mezzo bellissima e hanno trovato anche il secondo gol e da lì poi diventa tutto difficile perché poi sono squadre che comunque nel secondo tempo ti fanno giocare poco interruzioni, cambi e controcambi e quindi la partita si è messa in un binario già morto dopo il secondo gol e poi c'è stata l'espulsione di Grascia, poi c'è stata l'uscita dal campo addirittura di Palmiero che già erano 10 minuti buoni che camminava in mezzo al campo per via dell'infortunio quindi era difficilissimo da recuperare però adesso mettiamo un punto e ripartiamo sperando di ritornare quelli brillanti che eravamo prima di niente perché anche a Francavilla siamo stati brillanti, abbiamo giocato bene però purtroppo non abbiamo portato nulla a casa ieri non abbiamo giocato bene Sarà necessario il mercato? Lei aveva detto prima di questa partita qualcosa faremo? Ma il mercato, vedi Enrico, il mercato può essere necessario se trovi i correttivi giusti noi credo che, non so se sia arrivato oggi o se arriverà domani, arriverà il difensore Mesic che sarà pronto chiaramente a gennaio e poi Delicarri sta lavorando per capire se c'è qualcosa da fare ancora se si trova qualche correttivo che ci possa dare una mano Ai 13.000 di Catanzaro ai 3.000 nel giro di una settimana Carlo Di Spettatori era prevedibile ma è dispiaciuto per questo? Così netto? Ma sicuramente la città di Pescara dovrebbe essere più vicina a questa squadra però io se devo guardare un aspetto positivo di ieri sera devo solamente ringraziare i tifosi perché hanno sostenuto la squadra dal primo al 95esimo l'hanno incitata alla fine della partita, hanno chiamato i ragazzi sotto la curva e gli hanno detto di pensare alla prossima partita e di ripartire credo che quello che stanno facendo i tifosi quest'anno nei confronti di questo gruppo, di questo allenatore credo che sia molto ma molto importante e quindi non dobbiamo disperdere questo aspetto positivo Grazie a tutti